Si è interrotta a quattro la serie negativa dell'Otto Caserta che batte 90-76 l'Angelo Gobiella. Due punti importantissimi per i bianconeri che tornano così a sei lunghezze dall'ultima in classifica Casale, sconfitti in casa da Teramo. Gran serata per Andre Collins che dopo le critiche delle ultime settimane è tornato a far quello che tutti si aspettano da lui. Doppia-doppia con 23 punti, 11 assist, 5 su 7 nel tiro pesante per una valutazione di 31. Bene anche Smith, particolarmente concreto in attacco ma anche abile a catturare 9 rimbalzi. C'era tanta attesa per Charlie Bell che ha fatto meglio di domenica scorsa ma non è ancora al top della condizione. Nel primo quarto i bianconeri provano a scappare grazie alle invenzioni del play e un contropiede micidiale. Biella appare sorpresa e si riprende solo nel secondo periodo con i canestri di Coleman e Miralles. All'intervallo Caserta ha ancora il naso avanti. Una gran difesa e la reattività di Stipanovic e Bell consentono alla 8 di accumulare 11 punti di scarto che diventano 14 al 32esimo. Sembra il viatico giusto ma Biella non ci sta inizia a dimezzare il gap prima con Pullen e poi con Coleman 78-76. Collins e Smith mettono al sicuro il punteggio e nei secondi finali il play infila due siluri che valgono il 90-76 finale. La Juve esce tra gli applausi e si prepara lo sbarco in Sardegna che chiuderà il girone di andata.